Per ogni passo che facciamo sulle spiagge campane incrociamo più di tre rifiuti, sei ogni metro. Per lo più sono plastica, un frammento ad ogni passo, ma di invadere i nostri litorali c'è ormai di tutto. Oggetti di ogni forma, materiale, dimensione, colore, rifiuti spiaggiati gettati consapevolmente arrivati da chissà dove, attraverso i fiumi o che provengono direttamente dagli scarichi non depurati, dall'abitudine di utilizzare i WC come una pattumiera e soprattutto dalla loro cattiva gestione. A fotografare il fenomeno è l'indagine Beachlitter 2019 di Lega Ambiente, che presenta anche quest'anno una situazione critica per molti arenili campani. Su 29 spiagge monitorate, per un totale di circa 170.150 metri quadrati, sono stati trovati una media di 647 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia, per un totale complessivo di 18.744 i rifiuti. Nel Salernitano sono state 15 le spiagge monitorate, per un totale di 80.400 metri quadrati, dove sono stati trovati una media di 272 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia, per un totale complessivo di 4.083, il 21% del totale dei rifiuti trovati sulle spiagge campane. La plastica è il materiale più trovato, pari all'81% del totale dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge salernitane. Nella provincia di Salerno sono state monitorate 15 spiagge, la spiaggia presso il porto di Agropoli, la spiaggia di Piano di Velia ad Ascea, quella presso la foce del fiume Tusciano a Battipaglia, le spiagge di Grotta della Cala e quella del troncone di Camerota, l'Oasi Dunale, Licinella, Torre di Mare a Capaccio Pestum, la spiaggia sul lungomare di Ogliastro Marina a Castellabate, la spiaggia delle Saline a Centola, l'aria protetta lega ambiente Eboli e la spiaggia alla foce del fiume Sele a Eboli, il lungomare di Agnone a Monte Corice, la spiaggia libera Cristoforo Colombo a Salerno, quella presso il comune di Santa Maria di Castellabate e la spiaggia presso il largo dei 300 a Sapri. La plastica regna sovrana sulle singole spiagge su 1.031 rifiuti censiti sulla spiaggia di Cristoforo Colombo di Salerno, ben 83% è rappresentato da plastica, mentre sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate il 100% dei 750 rifiuti censiti riguarda la plastica. La cattiva gestione dei rifiuti urbani è la causa principale della presenza dei rifiuti, l'85%, insieme alla carenza dei sistemi depurativi, responsabile del 9% degli oggetti ritrovati. La media nazionale si attesta sull'8%. Le attività da pesca e acquacoltura sono i settori responsabili del 6% degli oggetti monitorati. La media nazionale si attesta al 7%. Reti, lenze, scatoline delle esche, non solo pesca professionale, ma anche amatoriale. Negli ultimi anni, fanno sapere dall'Egambiente, ci siamo concentrati sullo studio delle plastiche spiaggiate e galleggianti per capire la natura del problema e valutare la provenienza stessa del rifiuto. Oggi il marine litter è una delle più gravi emergenze ambientali globali, insieme ai cambiamenti climatici, poiché mette a rischio la biodiversità marina e la salute dell'uomo.